Sono qui, Mithios! Perzeus! 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 La ciurma ha fatto il possibile! Ma siamo arrivati da... Schifose guardie della setta, Mithios! Guarda cosa hanno fatto! Li hanno uccisi! I miei poveri animaletti trucidati come bestie! Sbrighiamoci! Neleo potrebbe essere in pericolo! Preparo la nave! Va pure! Qui non puoi fare più niente! Risparmi le forze! Forse sopravvivrai! Sono un medico, Mithios! So quando un paziente sta morendo! Tieni l'antidoto che ti ho promesso! Rimedio sempre ai miei errori! Sì, sì! Bene! Lo darò a Neleo! È la migliore speranza che ha! Ma non aspettarti un miracolo! Non ti lascerò qui così! Uccidimi e poni fine alle mie sofferenze! Per favore! Ti chiedo solo questo! Che cos'è successo a tutte queste persone? Sembra un massacro! Ah! Le guardie della setta! Sì, sì! È stato un massacro! È un messaggio per te, Mithios! Sanno che hai fatto domande! Sta fermo! Così non ti faccio male! Grazie, Mithios! Sono pronto, Mithios! Fallo! Forse avresti potuto ancora fare del bene! Allora!